In questi casi dove c'è una aggressione ingiusta, soltanto posso dire che è lecito fermare l'aggressore ingiusto. Sottolineo il verbo, fermare. Non dico bombardeare, fare la guerra, fermarlo. Ma dobbiamo avere memoria pure, quante volte sotto questa scussa di fermare l'aggressore ingiusto le potenze si sono impradonati dei popoli e hanno fatto una vera guerra di conquista. Una sola nazione non può giudicare come si ferma questo, come si ferma un aggressore ingiusto. Sul volo di ritorno Seul-Roma, Papa Francesco ha intessuto un fitto dialogo con i giornalisti sollecitato da 16 domande che hanno spaziato dal viaggio nella Repubblica di Corea agli scenari internazionali più preoccupanti. Dopo aver parlato della drammatica situazione in Iraq, dove il pontefice sarebbe anche disposto ad andare, la tensione è stata messa a fuoco sul Medio Oriente. Oggi il fumo delle bombe lascia poco spazio alla speranza di pace tra israeliani e palestinesi, ma Papa Francesco si è detto convinto che la porta del dialogo è aperta e che bisogna solo attraversarla. Dopo una ferma a condanna dell'uso della tortura nei processi giudiziari e da parte dell'intelligence, Papa Bergoglio ha parlato del suo desiderio di andare in Cina, così come dei prossimi viaggi in programma. Certa la tappa a Filadelfia per l'incontro mondiale delle famiglie cui potrebbero aggiungersi New York e Washington, probabili il Messico e la Spagna. Spazio anche alla vita condotta a Santa Marta, alle vacanze, all'insegna di un ritmo diverso di vita con più lettura, più riposo e più musica e al rapporto con Benedetto XVI, un uomo saggio che ha aperto la porta alla figura del Papa Emerito, una porta istituzionale e non eccezionale.